Tentata estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e trasferimento fraudolento di valori. Queste le accuse contestate a vario titolo alle 14 persone raggiunte oggi da provvedimento cautelare emesso dal GIP di Messina e Eugenio Fiorentino su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo. Peloritana, come svelato durante le indagini scattate nel 2015, la famiglia mafiosa di Mistretta avrebbe imposto il pizzo sulla riqualificazione delle opere della Fondazione Fiumara d'Arte. E quanto hanno scoperto i carabinieri del Comando Provinciale di Messina, coordinati dalla Direzione Distrettuale Peloritana, che hanno eseguito l'ordinanza nei confronti di 14 indagati, dei quali 3 sono finiti in carcere, mentre 11 sono stati sottoposti a obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Durante le indagini è stata svelata anche un'estorsione a danno di una coppia di imprenditori che era subentrata nell'appalto, valore a base d'assa a un milione di euro e giudicato per 800.000, grazie a un ricorso vinto al TAR. Tra gli arrestati spicca il consigliere comunale di Mistretta, Vincenzo Tamburella, tutt'ora in carica. Sarebbe stato proprio quest'ultimo a ribadire la necessità della messa a posto, favorendo così la famiglia mafiosa dei Rampulla, in particolare la signorina, come era definita Maria Rampulla, morta a maggio del 2016, quando le indagini erano ancora in corso. Sorella di Pietro, condannato per essere l'artificere della strage di Capace e all'epoca dei fatti detenuto. E di Sebastiano, storico capo della famiglia di Mistretta, morto nel 2010. Nel corso delle indagini è emerso anche il ruolo centrale di Giuseppe Lorè, detto Pino, ritenuto intraneo all'associazione mafiosa e colpito da una misura di prevenzione personale patrimoniale proprio nel 2015. Nonostante il provvedimento restrittivo, quest'ultimo però avrebbe continuato a gestire, tra il Messinese e Nicosia, vari locali, nightclub, lidi, balneari, rivenditati auto, formalmente intestati a prestanome e oggi sequestrati dagli inquirenti.